Sempre caro mi fu quest'ermocolle E questa siepe Che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il quarto esclude Ma sedendo e mirando Sovrumani, silenzi Quarantenato numero 3202, circoscrizione 10 L'amministrazione è costretta a rilevare la sua progressiva e contestabile In osservanza delle linee guida in materia di isolamento sociale La libertà di cui sta godendo e che le è stata concessa in virtù della condotta esemplare Da lei tenuta durante l'emergenza Covid-19, Covid-20 e Covid-21 Rischia di essere sottoposta a forte limitazione L'igiene della persona e degli spazi continuano ad essere di prioritaria importanza L'esposizione giornaliera alle radiazioni solari continua ad essere obbligatoria La videochiamata periodica con tutor dell'amministrazione continua ad essere obbligatoria Se insiste a disattendere il protocollo inviato nello scorso settembre Sarà sottoposto ad intervento coercitivo e declassato a quarantenato di livello B La prego di sottoporsi immediatamente a videoverifica Quarantenato numero 3202 circoscrizione 10 Quarantenato numero 3202 Quarantenato Mauro Che giorno è? La primavera è inoltrata La temperatura emite Sugli alberi le foglie Le foglie Si sta come d'autunno No, è primavera La temperatura emite Le foglie No, è primavera Si sta come d'autunno No, è primavera La temperatura emite Le foglie Si sta come in primavera Sugli alberi le foglie No, è primavera No, è primavera No, è primavera Le foglie Le foglie Grazie.